Diciamo che tanto il grande schermo quanto il piccolo schermo hanno una grande potenzialità, cioè hanno la potenzialità di narratore per immagini. Quindi la fiction, se prodotta in un determinato modo e se rispondente a quelle che sono anche le nuove interpretazioni storiche e storiografiche, può fare un grande servizio alla storia, cioè riuscire a divulgare con incisività quelli che sono dei messaggi storici. Per le competenze che ho, direi che una fiction da suggerire può essere radici, sia nella versione originale del 77 che nella versione rivista, nel remake del 2016. Perché se da un lato la fiction originale era riuscita a suscitare nel popolo americano, e non solo, poi anche nelle sue riproduzioni europee, a suscitare un dibattito intorno a dei temi che erano tabù, la fiction invece, la riproduzione del 2016, sfata tutta una serie di tabù e di cliché, che erano anche figli del tempo in cui la prima fiction era stata prodotta. Quindi direi che sono strettamente collegate l'una all'altra. Nel mio intervento mi ero riproposta di fare questo, cioè di cercare di sfatare un po' quello che è un mito, se così vogliamo definirlo, di una serie di generazioni di storici, di una serie di accademici, non necessariamente datati a livello di età, secondo i quali per la storia, la storia sta attraversando tempi duri, perché soprattutto per il modo in cui viene, per certi versi, insegnata, ma soprattutto per il modo in cui viene divulgata dai mezzi di comunicazione, in particolar modo dalla televisione. Ebbene, con questo mio breve intervento ho tentato di sottolineare come effettivamente questo luogo comune degli storici sia falso. Il mio intervento voleva proprio mettere in evidenza come la storia, la narrazione della storia e la riproduzione visiva della storia è un qualcosa che può funzionare, ovviamente se fatto secondo quelle che sono le regole di una buona produzione, sia scritta che visiva.